Vorrei parlarvi di una cosa chiamata vita. La vita è cambiamento continuo. A volte sei alle stelle e a volte tocchi il fondo. Le cose non funzionano sempre perfettamente. Devi esserne consapevole. Ti può capitare di trovarti di fronte ad un ostacolo, di andare incontro a un rifiuto, di sentirti dire no. Di vedere sfumare un affare che ti sembrava concluso. Di andare a un appuntamento e non trovare nessuno. O che qualcuno ti dica, puoi contare su di me. E poi non mantenga la promessa. Non c'è individuo che abbia raggiunto il successo senza superare ostacoli, senza difficoltà. Devi saper guardare oltre le barriere. Noi esseri umani abbiamo una capacità, una qualità che nessun animale possiede. L'immaginazione che ci permette di vedere qualcosa prima che accada veramente. Devi andare dieci, vent'anni avanti nel futuro per vedere com'è il futuro. Per vedere la persona che tu vorresti essere. E poi tornare indietro, nel presente. E vivere ogni giorno facendo in modo che ogni secondo sia importante. Devi prendere un grande sogno e realizzarlo. Fissare un grande obiettivo e renderlo concreto. Facendo piccoli passi. Uno alla volta. Pensa in grande. Sogna in grande. Il peggior nemico con cui dovrai combattere è te stesso. Un antico proverbio africano dice Se sconfiggi il nemico che è dentro, quello fuori non può farti del male. Ci sono tante cose che avresti voluto fare, che avresti dovuto fare, ma non le hai fatte. Perché hai avuto paura. Paura di fallire. Paura di fare anche un solo sbaglio. Paura di non essere perfetto. E io ti dico, non dovrai essere perfetto. A cosa serve essere perfetti? Per ottenere ciò che si vuole. Per fare ciò che si vuole. Se stai aspettando il momento perfetto, non illuderti. Non arriverà mai. Tu devi creare il momento perfetto. La perfetta opportunità. La perfetta situazione. Ma devi cominciare adesso. Tutti sanno sentirsi bene quando hanno la salute. Le bollette pagate. Le relazioni felici. Tutti sanno sentirsi positivi così. Ma sai qual è la vera crescita? La vera crescita è la sfida che ha inizio proprio quando sei a tappeto. Quando sembra che tutti ce l'abbiano con te. Quando hai perso più volte. E le luci sono a spente. E nei momenti più difficili che devi lottare contro la rassegnazione, l'inedia, l'apatia, non sono le circostanze a determinare il tuo successo. Quel che conta è la tua mentalità. C'è bisogno di talento e abilità per far bene le cose. Il talento lo puoi avere per natura. L'abilità la migliori con lo studio, l'allenamento, il sacrificio. Ma potrai avere tutto il talento che vuoi. Fallirei comunque se non lo coltivi. Ma ricorda, un fallimento non farà mai di te un fallito. A volte è il primo passo verso il successo. Devi avere coraggio, avere fiducia in te stesso. E credere nel tuo sogno. Ripetendo ogni momento vedrai che alla fine le cose andranno bene. E se non andranno bene è solo perché non sia ancora la fine. Se puoi vincere la battaglia della tua vita non dovrai mai aver paura di fallire. Grazie.